Buonasera Presidente Meloni. C'è una cosa bella quando vi giro per l'Europa, quando vado in Francia, in Irlanda e vedi queste famiglie con quattro, cinque figli. È bellissimo. È bellissimo, ti dà un senso di patria, di Dio, di famiglia. Beh, insomma, sì. Poi torno in Italia. Eh. Che fa? E mi trasformo in un crotalo. Infatti quella è un po'... Perché vedo che le famiglie sono composte da moglie e marito, quattro, cinque sì, ma cani. Eh, da noi vanno tanto. Vedi solo cani. Eh, tanto sì. Saltuariamente qualche coppia a gattara, ma tendenzialmente cani. Eh, lo so, si fanno più cani che... E perché? Eh, appunto lo chiediamo a lei, Presidente del Consiglio. Perché in Italia c'è un problema di natalità... Esatto, esatto. ...e perché c'è un problema di natalità crotali miei. Perché c'è stata una parte politica... Chi? ...che ha governato prima di noi. Sì. Se siamo capiti, no? Vabbè, esatto. ...dui uno con la parte prima di noi. Ma sì, sì. Come si chiama? Che nome ha sto braccio? Perché questo è il destro, lo so. Ma questo, come si chiama? È sinistro, no? È sinistro. Ecco, il sinistro. Sì. Che lo tenevano così, no? Come lo tenevano? No, 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 col pugno chiuso. Col pugno chiuso? Sì. Che schifo. Vabbè, che schifo. Senta, adesso non è che... Ma io me lo leggo dietro sto braccio. Comunque, questi con l'artrite al pugnetto di sinistra... Sì. ...che volevano il genitore 1, il genitore 2... Ma non è per quello... ...la famiglia queer, che volevano mettere gli uteri su Airbnb... No, nessuno le valeva mai mettere. ...che non si poteva dire mamma, papà... Ma sì, che si poteva dire... ...l'uomo col pisello e la donna con la patonza. Ma chi lo dice? Ma non è vero. No, tranquillo, amore mio. Sì, ma... Il sesso poi te lo scegli te quando sei grande. Vabbè, ma è... Ma a vent'anni decidi se ti senti checchetta, drag queen o minotauro. No, ma cosa sta dicendo? L'importante è che eviti Dio, patria e famiglia... ...che sono i valori nei quali crede il mio braccio destro... Sì, lo tenga giù. ...stizzazzoni col pugno chiuso. Sì, ma lo stia... Tenga giù le mani, guardi. Pensavano che se fa un figlio inquini l'ambiente. Ma chi l'ha detta sta cosa mai? Che lo devi buttare insieme alla plastica. Ma nessuno l'ha mai detta questa cosa. Pugno chiuso, altro che vaccino per il Covid. Io vi faccio il vaccino per staccare tutte le dita e tutti... ...per far crescere tutti solo con braccia destre. No, no, spero di no. Ma no, ma non è questo. Che vorrebbero l'Italia pieni da conta quinte. Ma no, no. Tanto piamo gli africani, ci pensano loro a riempire Trastevere, Campo dei Fiori, con i marmocchietti a brustolini. No, no, come si permette, no. Ma per fortuna, per fortuna c'è questo governo... E cosa fate voi? ...che ha deciso di cambiare il destino del paese. Oh. E sapete che cosa farà? Eh, cosa farà? Cosa farà? Eh, non lo so, chiedo là, i asini, scuole gratis, salario minimo, affitti calmerati per le giovani coppie, perché quello... Ma coso? Eh. A braccetto di sinistra. Ma non sono un braccetto di sinistra. Non siamo mica lungheria. Eh, infatti... Quella è gente seria. Eh, loro... Noi stiamo in Italia. Eh. E c'è una cosa sola che può fare questo governo per salvare il paese dal baratro. E qual è? Una cosa grossa. Ah. Non facile, non facile. Ma cos'è? Trattenere Fiorello in Rai. Ma no. E cos'è? Pronto? No. Dategli tutto quello che chiede tutto. No.